Dal profilo Facebook di Mario Adinolfi del 2 ottobre 2024. La tragedia e la farsa di Mario Adinolfi. Il mondo danza tragicamente sull'orlo della catastrofe come mai era accaduto dalla fine della seconda guerra mondiale. La guerra di Corea, i missili a Cuba, il Vietnam e tutta la pluridecennale conflittualità con il blocco sovietico sono nulla rispetto a 181 missili balistici sparati dall'Iran verso Israele con contemporanea strage terroristica palestinese a Jaffa e risposte di Tel Aviv che bombarda una scuola Gaza dopo aver sterminato la famiglia di un reporter e ferito gravemente lui, sua madre e un fratello. Il tutto mentre comincia l'invasione terrestre del sud del Libano e la strepitosa missione dell'ONU che dal 1978 è definita United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, cioè una missione che dovrebbe garantire la pace e l'interposizione tra le forze ostili in Libano, sparisce nei bunker appena l'aria si è fatta pesante. Questo è un bene per la sicurezza dei 1292 ragazzi italiani presenti sul terreno che nel 2024 ci sono costati con annessi e connessi 160 milioni 570 mila euro. Ma è anche la chiara dimostrazione che UNIFIL è un enorme e inutile spreco di denaro e di risorse umane perché l'ONU non conta nulla. Conterebbe qualcosa Putin a cui ora l'Occidente, informalmente, si rivolge per tenere a freno gli sbollà e soprattutto gli ayatollah iraniani che li manovrano. Ma se da tre anni fai la guerra alla Russia è davvero molto difficile che ora la Russia dia una mano a pacificare la questione. Intanto una presidenza americana fragilissima e per questo chissà da quale interesse etero diretta non riesce a far nulla per mettere un freno al governo Netanyahu che ha deciso di colpire su sette fronti contemporaneamente Gaza, Libano, Iran, Iraq, Siria, Cisgiordania e Yemen. Neanche ai tempi delle quattro guerre arabo-israeliane dal 1948 al 1973 Tel Aviv aveva osato tanto. I contorni della tragedia in atto sono questi e sono tanto inediti quanto incerti. Nelle altre stagioni di crisi che il mondo ha vissuto dopo la fine della seconda guerra mondiale, leadership e obiettivi dei campi contrapposti erano molto chiari. Stavolta la tragica domanda senza risposta è chi o che cosa può fermare questa escalation continua verso la catastrofe? Dentro la tragedia, come sempre in Italia, scegliamo il versante della farsa. Per sabato è previsto a Roma dalle 14 un corteo per ricordare l'inizio della rivoluzione palestinese, cioè l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 con l'uccisione di 1200 israeliani. Il Ministero dell'Interno tramite la Questura lo ha vietato per ragioni di ordine pubblico e io avrei aggiunto anche perché il popolo palestinese dopo il 7 ottobre ha pagato con la vita di decine di migliaia di persone la scelta di quell'organizzazione terroristica. L'Unione Democratica Arabo-Palestinese non è d'accordo e ha presentato ricorso al Tar affinché il corteo sabato si possa comunque tenere. Intanto oggi all'Università La Sapienza di Roma è stata invitata a parlare Leila Khaled, esponente dell'organizzazione terroristica denominata Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, FPLP, che dirottò il volo TVA 840 il 29 agosto 1969 e poi ripete l'impresa il 6 settembre 1970 con il volo della compagnia israeliana Eyal 219. Leila Khaled divenne l'icona simbolo del terrorismo palestinese anche grazie ad una sua foto mentre indossa la keffia e imbraccia un fucile mitragliatore AK-47. All'Università La Sapienza di Roma impedire una Papa Benedetto XVI di parlare perché con il discorso di Ratisbona aveva messo in guardia dalla violenza insita nella dimensione islamica. Oggi parlerà liberamente una dirotatrice di aerei nota per una foto con un kalashnikov mentre il mondo rischia la tragica catastrofe tra missili e bombe. E noi scegliamo la farsa con una sinistra italiana. Sì, tutti i comunisti di varia natura, la rifondazione e il nuovo PC sostengono questi eventi. Radicalmente antisemita, che organizza manifestazioni per celebrare il devastante ciglio del 7 ottobre che ci ha ascentemente portato a questo punto, sacrificando la vita di 40.000 palestinesi, così come convegni nel più noto degli Atenei per far parlare una terrorista. Consiglio al ministro Piantedosi di riconsiderare il divieto di manifestare sabato 5 ottobre per due ragioni. La prima è di ordine pubblico. Il raduno si terrà lo stesso ed è più gestibile presidiando un corteo che mettendo nel cuore di Roma una bomba conflittuale che potrebbe avere sbocchi in azioni terroristiche di varia natura. Meglio a non offrire pretesti, insomma. La seconda ragione è di natura politica. Se decine di migliaia di persone vogliono manifestare, hanno il diritto di farlo e sarà utile conoscere le loro idee rispetto al 7 ottobre 2023 che vogliono celebrare. Io la considero una data totalmente tragica. Forse la data di snodo di questi anni venti che richiamano molti temi di quelli del secolo scorso, che come sappiamo portarono davvero agli esiti catastrofici. Ma la storia non viene studiata, la lezione non viene appresa, le falene vengono sempre attratte dalla fiamma distruttiva della violenza e della morte. Cerchiamo di circoscriverle il più possibile e anche se in via di principio sarei d'accordo con Piantedosi per le ragioni indicate, ritengo sia utile avere almeno nella farsa i contorni ben delideati e chi vuole dire le sue idiozie a favore del terrorismo che innesca le guerre, almeno che si sappia bene chi sono questi soggetti. Per esempio, per il convegno di oggi alla Sapienza, il professore ad aver richiesto l'aula per tenerlo è Giovanni Ruocco, docente di pensiero politico della colonizzazione e decolonizzazione, materia che ai tempi in cui mi laureavo in quelle aule non esisteva. Il professor Ruocco ha richiesto l'aula appressato dal collettivo Cambiare Rotta, che si autodefinisce Organizzazione Giovanile Comunista. Il simbolo è una stella rossa a cinque punte e invitano una terrorista. Ecco Ministro Piantedosi, meglio conoscere che vietare. E questo vale per oggi, sabato e più o meno sempre, almeno in questi versanti farseschi che un contesto tragico può facilmente però far degenerare. Grazie a tutti.